Io stavo ballicchiando un po' con loro perché mi hanno smosso un po' una vecchia passione Ciao, con chi sono qua io questa sera? Con Angelica E con? Catherine Ha parlato, attenzione, ha parlato le due sorelle che hanno ballato su questo palco questa sera, come è andata? Bene, bene, vabbè lo sapevamo che vinceva lei perché vabbè ha una bellissima voce, niente da dire Ma no, perché? Non si è mai sicuri fino alla fine, in realtà il pubblico si è davvero diviso in due perché avete veramente messo in difficoltà le votazioni, tu come ti sei trovata? Abbastanza bene, abbiamo ballato col cuore, quello è l'importante Assolutamente sì, poi vi siete divertite, avete rotto il ghiaccio la prima volta che vi esibite, no? Ho sentito parlare di gara, giusto? Facciamo da questo al terzo anno di gare e speriamo che vada bene come gli altri anni Speriamo che vi porti bene anche questo palco perché pare che porti bene un po' tutto quindi in bocca al lupo, visto che siete giovanissime, avete tutta la vita davanti è una strada lunghissima e ci vediamo presto Va bene, ciao, ciao, grazie Ciao, sei un aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper? Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest La ricerca dei talenti è appena cominciata, quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni inviando un sms al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto Io sono già sul palco, vi aspetto qua Bulli e Puppe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera Allora, abbiamo finito questa pubblicità Ah, non ti rassù che c'è un controcino Ah, non ti rassù che c'è un controcino